Un libro per l'Europa, di Thierry Vissol. Che cosa ha voluto fare con questo piccolo libro? Due cose. Una, ricordare che le lingue, le molte lingue dell'Europa, sono profondamente radicate nella storia e nella vita dei nostri paesi. Questo che cosa vuol dire? Che se, come il nostro cervello permette di fare, impariamo una seconda lingua e la usiamo, la seconda lingua non cancella la prima e soprattutto non cancella, questa che è una eredità storica tuttora viva e presente, la molteplicità delle lingue europee. Questo è qualcosa a cui spesso non si pensa, perché si teme che imparare una seconda lingua e usare una seconda lingua cancelli le prime. Non è così, lo sappiamo da esperienze storiche e da esperienze individuali di chi ha la fortuna di parlare più di una lingua. Quanto ne parla a lei? Bene, forse il napoletano, poi l'italiano e poi con qualche fatica il francese, un po' il tedesco, poco l'inglese e leggo però tranquillamente parecchie altre lingue. E allora lei propone... Ma sono un cattivo soggetto come la mia generazione in genere. Lei propone di utilizzare, per favorire la democrazia in Europa... La seconda cosa che io vorrei che guardassimo con attenzione è che cosa succederà se riusciremo a costruire finalmente una democrazia reale, federale in Europa in cui i cittadini e non i governi sono chiamati a decidere politica estera, politica economica, eccetera. E allora avremo bisogno, io credo, di una lingua comune. Penso che allo stato attuale la lingua più indicata per diventare la seconda lingua di tutta l'Europa sia l'inglese. Grazie mille, professore Tullio De Mauro. Ovviamente spiega nel suo libro perché appunto l'inglese sarebbe la lingua franca, diciamo, più interessante per l'Unione Europea. Grazie, professore.